ora dopo ora si consolida la maggioranza che sosterrà il governo draghi sarà larga e potrebbe andare oltre il perimetro del modello ursula pd forza italia italia viva ma anche i 5s e leu ci stanno e i segnali di apertura da parte della lega sono sempre più netti matteo salvini si smarca dall'alleata giorgia meloni che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo il leader leghista fa addirittura intendere di volere entrare nella squadra con tanto di ministri e scende in campo direttamente beppe grillo nel tentativo di far virare definitivamente i 5 stelle il fondatore del movimento a proda a roma ed è pronto a partecipare alle consultazioni il round di colloqui dell'ex presidente della bce è dunque servito a far andare a posto i primi pezzi del puzzle leu che fra i partiti della vecchia maggioranza è il più freddo avverte però di un pericolo che in molti temono il rischio di una compagine disomogenea che in parlamento potrebbe condurre a percorsi laboriosi e esporre a sgambetti ora di una forza parlamentare ora di un'altra i gruppi che alle camere si collocano più a sinistra sono anche quelli che esprimono con maggiore forza la difficoltà di ritrovarsi fianco a fianco con i sovranisti della lega questione posta anche dai dem che però hanno già messo agli atti la disponibilità a lasciare a draghi lo spazio per trovare una sintesi un esempio che bene misura la distanza fra le parti è la riforma fiscale che vede contrapporre una visione alla tedesca portata avanti dalle sinistre che ruoti dunque intorno alla progressività della tassazione a quella leghista che da sempre punta al suo opposto la flat tax ancora più urgente il blocco dei licenziamenti la scadenza è per fine marzo le idee su come affrontare il passaggio molto diverse l'alleanza le upd meno 5s non può essere dispersa ma siccome si basa su programmi e progetti appare incompatibile con il partito di salvini dice loredana de petris al termine del colloquio con il premier incaricato con draghi siamo stati molto chiari aggiunge ma se poi questo sia un muro invalicabile è da vedere